Ed eccoci qua nuovamente con Don Pasquale. Don vogliamo aprire una pagina dedicata alla scuola perché qualche tempo fa si è celebrata la giornata degli insegnanti e non so se tu sai, molti lo sanno sicuramente a casa, alcuni insegnanti sono dei veri eroi e sono quelli di religione che combattono proprio sul campo questa grande battaglia, questa ora che qualcuno ritiene ancora purtroppo di divertimento o soltanto di catechismo, mentre in realtà è un'ora di cultura. Sì, ho letto un po' di giorni fa in un articolo di giornale che Massimo Cacciari, uno dei più grandi filosofi del panorama culturale italiano di questo periodo, parlava dell'ora di religione come un'ora fondamentale per scoprire le radici della propria cultura. Lui addirittura dice di portare il testo biblico in classe. Sì, addirittura, noi non possiamo fare a meno di conoscere i fondamenti, la nostra identità, i segni particolari che dovrebbero caratterizzare la nostra carta di identità. Il testo biblico ci può dare questi segni particolari, ci può far scoprire lati della nostra personalità che noi magari non conosciamo. Il testo biblico è un testo di maieutica, cioè ci fa tirare fuori le parti belle e le parti meno belle di noi, ci fa guardare allo specchio. La Bibbia è il nostro specchio. Certo, bisogna guardarla prescindendo un po' dai giudizi e dai pregiudizi che a volte ci facciamo. Bisogna essere intellettualmente liberi per approcciarci a questo testo che prima di essere un testo di fede è un testo che concentra il precipitato culturale e storico di tutto un popolo che è un po' in piccolo tutta la nostra umanità. Diciamo che raggiunge il massimo dei suoi obiettivi soprattutto alle scuole superiori, quindi con i ragazzi un po' più grandicelli, quelli di cui abbiamo parlato spesso, quelli che si allontanano un po', quelli che andrebbero recuperati, ecco lo specchio, è una bella immagine. In questo periodo poi post-covid sicuramente l'andamento della scuola, l'andamento delle lezioni è cambiato perché il fatto di essere in relazione per un certo periodo non c'è stato più, non si è più avuto, quindi c'è stata anche questa difficoltà, non solo per la materia di religione ma anche per le altre materie. Che riscontro hai avuto tu che frequenti i giovani in quel periodo soprattutto rispetto alla scuola? È stato un periodo arido, è stato un periodo molto arido perché i ragazzi da un certo momento all'altro, da un giorno all'altro si sono visti privati di questo interfacciarsi fondamentale per la loro crescita, quindi tutto è stato filtrato da uno schermo, dal computer, da una tastiera e tutto questo ovviamente ha creato degli imbarazzi, dei profondi imbarazzi, non solo nei ragazzi ma penso anche nei genitori, penso anche negli insegnanti, niente può sostituire la relazione faccia a faccia e questo tempo ce lo sta dicendo chiaramente, anche se adesso abbiamo la mascherina, quindi tutte le relazioni sono filtrate comunque dalla mascherina, però almeno c'è uno sguardo che ci mette in relazione, che ci fa sentire vicini, ci fa sentire con partecipi di uno stesso destino che è quello che stiamo vivendo adesso, un po' difficile certo, dobbiamo fare attenzione a tante cose, dobbiamo tenere una distanza che chiamano sociale ma che in fondo sociale non è, dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti, ma anche in questo frangente così drammaticamente fecondo della storia dobbiamo saper trarre quei frutti di bene che la provvedenza sempre dissemina. Noi nel frattempo abbiamo intercettato un insegnante di religione e ascoltiamo cosa ci dice, proprio alle prese con i primi giorni, insomma viene fuori una bella testimonianza. La didattica a scuola post-covid? È una bella domanda perché secondo me non si può integrare bene la prevenzione e la protezione dei rischi della salute con quello che proprio sono le dinamiche della didattica, che significa coinvolgimento, significa relazione fondamentalmente, quindi cosa possiamo fare? Niente, dobbiamo salvare il salvabile, darci la buona volontà ma la scuola non è questa, però dobbiamo comunque farla e dobbiamo farla in presenza, sempre meglio della presenza e della distanza. Però non si può salvaguardare tutte quelle dinamiche appunto che significa incontro, che significa... io le superiore è ancora ancora, immaginiamo quelle che fanno le scuole medie, dove c'è lo sguardo, c'è magari anche tra le maestre, l'abbraccio. E' contatto fisico? Non è proprio un contatto fisico ma è una relazione molto più... c'è più prossimità, no? E quindi è così, è tutta una situazione di emergenza e dobbiamo solo sperare che questa cosa finisca più presto. Il punto di vista dei ragazzi, che riscontro hai avuto da insegnante di religione? Beh, l'esperienza a distanza è stata molto significativa perché sono passati dall'entusiasmo del provare queste emozioni a distanza alla stanchezza, io poi a più di un ragazzo ho chiesto di scrivermi cosa hanno vissuto sia a livello di emozioni che a livello di pensieri e sono usciti dei resocondi molto interessanti, fondamentalmente c'era da una parte la paura di rischiare qualcosa, soprattutto per i familiari, ma anche la voglia di stare con gli altri, la relazione, questo bisogno che... quindi preferivano andare a scuola fondamentalmente, all'inizio no ma poi sì, e questo dice tutto di quello che è la realtà e di cosa hanno bisogno veramente i ragazzi e che la scuola offre che così in queste condizioni non può offrire. C'è stata la voglia di tornare a scuola in presenza anche da parte dei ragazzi? Grazie. La voglia di tornare in presenza anche da parte dei ragazzi, in effetti dopo il primo momento di entusiasmo perché quando si dice a un ragazzo oggi la scuola è chiusa, ovviamente si sa, insomma la prima reazione è quella di gioia e di festeggiamenti e in realtà poi si sono scoperti, insomma, desiderosi di tornare a scuola tra i banchi. Ecco, paradossalmente questo tempo ha fatto venire fuori il desiderio profondo dei ragazzi di stare e andare a scuola e qui mi ricordo quando ero piccolo, ma penso sia un'esperienza comune a tutti, che quando ci si diceva che non si doveva andare a scuola la prima reazione era quella di festa, di gioia, uscivamo fuori, facevamo cose totalmente altre rispetto a quelle proposte nelle aule scolastiche invece adesso la situazione è profondamente mutata, certo l'entusiasmo di cui prima si parlava era certamente provocato dalla scoperta di questa novità di fare lezione online, come anche molti adulti fanno per esempio nelle università telematiche si fa così, però ovviamente in questa fase che è così bella ma così critica della propria vita che è l'adolescenza c'è bisogno di costruire se stessi a partire dall'altro, non possiamo stare da soli questo tempo ci ha innestati nella convinzione che abbiamo bisogno degli altri per vivere non possiamo fare a meno del contatto, della vicinanza, della fisicità, dei rapporti concreti e reali altrimenti rischiamo di idealizzare gli altri, quando noi vediamo gli altri filtrati da uno schermo li pensiamo diversamente da così come sono, quindi noi ci rifugiamo in questa idealità che noi stessi abbiamo costruito e che può diventare una trappola, perché noi gli altri li conosciamo quando ci parliamo a viva voce mai quando ci parliamo al telefono o anche attraverso questi mezzi social che oggi imperano già è difficile farsi conoscere quando si è uno di fronte all'altro, perché c'è il timido, c'è il riservato quindi c'è chi emerge di più, chi ha la voce più forte immaginiamoci quindi dietro uno schermo a sgomitare per farci notare, per farci semplicemente ascoltare il nostro pensiero i cosiddetti leoni da tastiera forse nella vita reale sono tutt'altro rispetto che leoni quindi c'è bisogno veramente di giocarsi nella relazione e di decidersi per la relazione altri che hanno incontrato difficoltà sono stati gli stessi insegnanti a noi, agli insegnanti fa piacere ritrovarsi in classe con i colleghi, ci si confronta si scambiano opinioni sui ragazzi stessi che si hanno di fronte secondo te questo periodo segnerà anche una svolta a livello didattico il fatto di poter insegnare, tu prima parlavi delle università erano già preparate a questo tipo di lezione online ci sarà un'evoluzione in questo senso? sarà questa forse un'altra strada da prendere? penso proprio di sì penso proprio di sì perché niente di quello che ci succede ci lascia senza tracce tutto quello che capita porta ad una evoluzione o una involuzione molti durante il periodo di lockdown dicevano, proclamavano che saremmo stati migliori adesso ci stiamo accorgendo grazie a tutto quello che vediamo e che sentiamo che non è proprio così, anche Papa Francesco ce l'ha ricordato non bisogna tornare ad una normalità precedente a questo periodo che era comunque una normalità malata che noi consideravamo normalità ma che in fondo tale non era che aveva le sue pecche, aveva le sue crepe, le sue falle noi dobbiamo cercare di andare avanti valorizzando in positivo tutto quello che ci è successo anche l'utilizzo di questi nuovi mezzi di comunicazione che ovviamente porteranno frutto nella misura in cui verranno impiegati non come sostitutivi del face to face ma come integrativi quindi bisogna mettere insieme le due facce della medaglia e non utilizzarne solamente una infatti integrare è proprio la parola giusta, c'è la didattica digitale integrata non sono vasi da riempire, un imbuto va utilizzato se vogliamo citare il ministro dell'istruzione insomma ci fu anche una battuta all'epoca, questi ragazzi hanno bisogno di vivere non soltanto di essere riempiti quindi insomma c'è tanto lavoro da fare e l'ideale insomma è variare in tutti i sensi adattarsi anche ai tempi che viviamo Don Pasquale siamo a metà ottobre, settimana prossima si celebra la giornata mondiale missionaria tante saranno le missioni nel mondo soprattutto in questo periodo se ne parla e lo si fa anche per riflettere su queste opere di carità è quella la Chiesa, la Chiesa missionaria il Papa ce lo ripete sempre, il nostro Vescovo Padre Franco ce lo ripete sempre noi siamo una missione, ci ripete la Chiesa quindi non dobbiamo mai dimenticare questo tratto particolare del nostro essere discepoli di Gesù siamo discepoli proprio perché seguiamo un maestro proprio perché camminiamo, andiamo e raggiungiamo gli estremi confini della terra come lui ci ha comandato e allora intanto buona domenica per oggi, buona settimana buona domenica, adoriamo il lunedì buona domenica a te, a tutti grazie ai nostri amici che ci seguono sempre con affetto e alla prossima alla prossima